BILANCE VAGABONDE A SPASSO TRA LE RIGHE DELL'ARTE Dal 25 gennaio al 27 settembre 2009 al Museo della Bilancia di Campogagliano. Una mostra per ammirare le bilance anche dal punto di vista estetico. Un percorso che non diventa una mostra d'arte, ma che tramite riproduzioni a stampa e proiezioni di opere centrate su strumenti per pesare consente di interagire con i prodotti di artisti e movimenti famosi. BILANCE VAGABONDE Un'occasione per imparare divertendosi, andando alla ricerca di particolari misteriosi, entrando nei dipinti e diventandone protagonisti, dando libero sfogo alla creatività nell'atelier ricco di materiali, esplorando riproduzioni di bassorilievi di epoca classica, ricomponendo immagini esplose, giocando col fotoritocco o immergendosi in suggestive narrazioni e tanto tanto altro ancora. Un percorso adatto a tutti, scuole, adulti e famiglie con bambini. BILANCE VAGABONDE Dal 25 gennaio al 27 settembre al Museo della Bilancia di Campo Galliano.